Oggi, mercoledì undici, aprile, in Valle di Susa si stanno formalizzando gli espropri dei terreni destinati ai cantieri del Tav. Qualcuno dirà come i cantieri del Tav sono già partiti i lavori del Tav, ma le di Susa. In realtà non è vero. È dall'estate scorsa che la Susa è occupata militarmente. Le donne recintate sono cittadini militari, non sono... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.